Partiamo dall'Ariete. Nuovi incontri in vista per voi. Vi trovate a vivere un periodo altalenante. Le stelle consigliano più pazienza, soprattutto in amore, e un po' più di coraggio sul lavoro. Toro, la giornata di oggi vi metterà di fronte diverse sfide, lavorative e non solo. Ma non temete, le soddisfazioni arriveranno prima di quanto pensate. Concentratevi sulle cose positive. Il tempo vi darà ragione. Gemelli, la routine pesa. Avete voglia di cambiare, di sperimentare cose nuove. Il vostro segno ha una buona condizione astrale, ma dovete sfruttarla. Una scelta coraggiosa vi premierà soprattutto in amore, più pazienza sul lavoro. Cancro, le vostre emozioni sono un po' sotto sopra. Vivere i vostri sentimenti con tranquillità oggi non sarà facile. Alcune vecchie paure vi trattengono, ma è solo una condizione passeggera. Leone, c'è aria di novità in campo sentimentale. Le stelle sono dalla vostra parte. Non chiudete la porta in faccia a un'opportunità troppo presto. Sul lavoro fate più attenzione, siate flessibili ma non troppo condiscendenti. Vergine, un sogno che vi faceva compagnia da tempo, oggi si avvererà, ma attenti a non farvi troppe aspettative. Le ansie legate alla famiglia vi lasciano finalmente respirare. Bilancia, sarà una giornata molto positiva per voi, soprattutto dal punto di vista sociale. Ottimi risultati in campo professionale e se non avete un lavoro è il momento più propizio per lanciarvi in un nuovo progetto di vita. Scorpione, perla di saggezza del giorno. Quanto è utile preoccuparsi per il futuro? Zero. Le ansie oggi non vi daranno tregua e a volte vi sembrerà di non potercela fare, ma è solo una fase. Sagittario, una splendida giornata la vostra. Per una volta le preoccupazioni saranno messe da parte da una sorpresa inaspettata in campo professionale che vi strapperà un enorme sorriso. Complimenti, bene anche alla salute. Capricorno, trascorrerete la giornata odierna pensando soprattutto al vostro partner e scoprirete che mettervi da parte per un po' fa molto bene alla serenità della coppia. Acquario, le gratificazioni sul lavoro non mancheranno oggi, ma verranno un po' meno le attenzioni del vostro partner. La vostra coppia è solida, c'è solo bisogno di un po' di pazienza e di scendere a qualche compromesso. Pesci, sarete divisi tra famiglia e lavoro e i problemi in ambito professionale purtroppo oggi non mancheranno. Affrontateli un passo alla volta e ritroverete pian piano la strada per la serenità interiore.